ciao amici la prostata è la ghiandola del sistema urinario e riproduttivo dell'uomo è molto piccola pesa solo 20 grammi ma è molto importante alla forma di una castagna con la punta rivolta verso il basso serve a produrre il liquido seminale dove vivono gli spermatozoi la prostata influisce anche sul flusso urinario perché adiacente alla vescica e all'uretra il canale che trasporta l'urina all'esterno dopo una certa età ma in realtà sempre più anche negli uomini giovani la prostata inizia a presentare disturbi più o meno gravi che si manifestano con sintomi quando si fa la pipì come bruciore alterazione del flusso eminzione molto frequente il sintomo più comune è l'infiammazione della prostata la prostatite circa il 25 per cento degli uomini dopo i 50 anni inizia a sviluppare questo disturbo ma la prostatite può colpire gli uomini a tutte le età quali sono i sintomi della prostatite 1 bisogno urgente di urinare spesso di notte e convinzione dolorosa 2 dolore durante e dopo l'eiaculazione 3 mal di schiena lombare 4 ipersensibilità al glande 5 saltuario deficit erettile 6 lieve o moderata disfertilità le cause dell'infiammazione sembrano collegate ai fattori che infiammano l'organismo cosa non fare per l'infiammazione della prostata 1 irregolarità intestinale per la vicinanza di tossine tra intestino e prostata 2 alimentazione squilibrata troppi grassi e proteini animali sono infiammatori 3 alcol e fumo generano infiammazione perché alterano il ph dei tessuti interni 4 eccessiva sedentarietà indebolisce l'attività muscolare della zona 5 eccesso di sollecitazione eccedendo con sport da seduti come bicicletta moto 6 stress e tensioni emotive aumentano il cortisolo che genera infiammazione ecco tre cause della prostatite legate all'alimentazione 1 grasso addominale 2 colesterolo elevato 3 pressione alta fai prevenzione da subito tenendo questi tre nemici sempre sotto controllo se vuoi approfondire gli alimenti favorevoli e contrari alla prostata e conoscere i rimedi naturali trovi tutte le informazioni necessarie in questo ebook approfondito per conoscere come stare meglio mangiando sano è facile iscriviti al canale con un click e cerca nelle playlist i tuoi argomenti preferiti sullo stile di vita sano mangia sano e vivi meglio